Vi auguro una buona giornata con questo messaggio. Asso di emozione. Questo cherubino annuncia una nuova e magnifica esperienza emotiva. Forse incontrerai qualcuno che ti farà battere forte il cuore o la tua relazione attraverserà un nuovo momento magico. È possibile anche che aprendo il cuore le tue capacità di intuizione aumentino notevolmente. Qualcosa di nuovo si sta svegliando nel tuo cuore. A farlo battere forte potrà essere una relazione che sta sbocciando o un nuovo momento di magia nel legame attuale. Se per ora non c'è nessuno nella tua vita arriverà molto presto. Potresti anche innamorarti. Questa carta annuncia l'inizio di intense esperienze emotive. Accoglile a braccia aperte. La carta indica anche nuove edificanti esperienze dal lato dell'intuizione. I messaggi che ricevi dagli angeli potrebbero diventare più chiari e frequenti. E riguardare la situazione emozionale che stai vivendo adesso. Ulteriori significati di questa carta sono Primo amore Una cotta per qualcuno Un flirt Aprire il cuore agli altri Epifanie spirituali Questo è il messaggio per augurarvi una buona giornata.